Siamo sempre qui, Rock Club 261, 6 aprile, questa è la notte del messicario e qui con me, con il popolo di Mantra Sound Radio, abbiamo i Night Glow, un grandissimo gruppo che loro nascono, abbiamo curiosato un po' sul web e fanno anche pezzi loro, però sono anche appassionati di un grandissimo gruppo che conosciamo tutti nel campo del metal, ovvero i Manowar, e diventano, in quale anno, Tribute Band dei Manowar? 2006, direi, chiedo conferma al curatore. Chiediamo conferma? Allora, praticamente dobbiamo dire che è una passione comune o una passione di qualcuno che poi l'ha instaurata al gruppo, oppure vi rispecchiate proprio alle sonorità dei Manowar? No, diciamo che è nata dalla necessità di, visto e considerato che in giro suonavano solo e esclusivamente i Tributi, le varie passioni erano tra le band comunque più famose, Iron Maiden e Metallica, ce n'erano già migliaia. Devevate uscire un po' dai canoni? Uscire dai canoni, cercare di trovare spazio, allora abbiamo deciso di fare qualcosa di più, anche un po' irriverente, allora abbiamo deciso per i Manowar. Comunque sì, la passione di base c'è, perché i Manowar sono comunque la band, per me in particolare, al primo posto, quindi in conseguenza. Allora, i Nightglow come nascono, in che anno e in più volevo anche chiedervi, quello che chiedo a tutte le band, praticamente il nome da dove proviene, no? Perché è bello anche chiedere questo, perché tante volte sono tutti nomi oscuri che oppure vengono appunto da questo profondo metal, che hanno questo abbinamento con appunto la notte, prima il Gallery of Sense hanno dato una precisa praticamente descrizione da dove proviene il nome, anche in Nightglow, quindi è un nome scelto a caso oppure perché come sonorità oppure inerente appunto a dei brani vostri che vi rispeccavate di più? No, penso fossimo veramente ubriachi questa sera lì, abbiamo tirato, sei tipo il classico Dado, no, cioè in generale alla base c'era la voglia di, di abbinare comunque un lato oscuro e un lato un po' più tranquillo, un po' più luminoso, quindi abbiamo fatto questo abbinamento di due termini, ma fondamentalmente il nome è nato quasi a caso. Cioè quindi... ...guerre stellari probabilmente, io non c'ero però non lo so, può darsi. Allora ragazzi, volevo chiedervi che brani portate questa sera alla Notte del Messicario, e praticamente anche possiamo dire, appunto per i vostri fans del web, dove possiamo reperirvi, quindi due link per informare la gente a casa e in più le prossime tournée dei Nightglow. Allora noi... qual è la prima domanda? Che cosa... la scaletta? La scaletta per stasera è semplicemente di vari pezzi dei men, ori più famosi, eccetera. Abbiamo il nostro album che ormai è uscito il 18 marzo, ma stasera non presenteremo i nostri pezzi ancora, perché abbiamo la release ufficiale 27 poi al V-stock, quindi stasera sarà semplicemente concentrata su pezzi dei men, ori più famosi, Warriors, Carry On, eccetera. E poi mi chiedevi dei link, abbiamo il nostro sito ufficiale che è nygloband.it, nyglo.it, ok? E poi ci trovate anche su Facebook, come... Esatto, assolutamente, esatto. E dove abbiamo anche tante foto, foto nudi, foto vestiti ed altro. Soprattutto Molet, il nostro Miss Tettine. Come nygloband, heavy metal band, e altri link. Poi su YouTube anche abbiamo il nostro canale dove ci sono i nostri video, dove abbiamo suonato in vari posti, palchi, eccetera. Perfetto, ora facciamo la domanda anche a un altro componente di nyglo. E volevo dirvi una domanda un po' più intima e particolare. Secondo voi il metal di oggi, con le varie divergenze che ha nel campo di tutti i sottogeneri, perché noi diciamo genere, poi ci sono tutti i vari sottogeneri, dove sta andando il percorso, secondo te, delle... Una domanda un po' più, no? Però una cosa personale, una domanda un po' più... Appunto, intima, no? Domanda intima? Stiamo andando verso lo schifo metal. Io sono di parte, sono legato alle sonorità 80. Io sono 80, quindi... nasceva da lì, quindi come ho detto prima, praticamente gli anni 80, io vorrei dire una belinata, come si dice a Genova, no? Però le sonorità anni 80 è partita un po' da quando l'hard rock si trasformava in qualcosa di più. Me la poggiate? Sì. Adesso io, non so, io non sono tanto per l'estremo, così, quindi non apprezzo questa volontà di estremizzare tutto il metal. Però gli 80 sono passati anche. Allora, come ha detto lui prima, appunto i Night Glow diventano tribute band perché praticamente hanno visto appunto questo percorso, di cosa c'era in giro, di tutti che diventavano appunto tribute band di Iron Maiden, cover band dei classici, no? I CDC. Allora hanno detto, ma andiamo a scovare appunto i Manowar. Quindi chi è che mi descrive i Manowar? Cioè, il perché? Come sono nati i Manowar? Se tu li ascolti ancora, questi Manowar? Cioè, state a più a sentire le sonorità dei Manowar prima o tuttora, anche di quello che stanno proponendo adesso? Guardi, io ti dico la verità, quando sono diventati tributo io non c'ero, ancora. Quindi ti posso però rispondere dicendo che noi, almeno parlando per me e credo per tutti, i Manowar li ascoltiamo ancora. Comunque siamo abbastanza legati alle sonorità del gruppo perché abbiamo sempre guardato queste cose, tutt'oggi. Anche le sonorità moderne comunque abbiamo un certo riguardo. Anche se diciamo che in generale preferiamo i Manowar di una volta, ecco. Ecco, poi è sempre così. Sì, beh, insomma, ultimamente diciamo che alcune cose sono diventate un po' forse un po' troppo pacchiane, esatto, un po' troppo gonfiate. Però per il resto voglio dire, il loro sound è sempre quello, quindi per i concerti quando vengono vicini li si segue. Abbiamo la fortuna comunque di aver collaborato e collaboreremo con un loro ex batterista, quindi siamo in contatto anche con i fans club, anche perché come tributo. Però no, fondamentalmente anni 80 e 90 dei Manowar quelli rimangono nel cuore. Quindi sapete anche, appunto, essendo in contatto con i fans club d'Italia, quante tribute band dei Manowar ci sono esattamente in Italia, più o meno? Sì, in questo momento noi. No, scherzi a parte. È anche un onore, perché ci sono tante cover band che tutti, io tante volte ragazzi vado a vedere questa bolla mediatica che è la tv, non la trovate, mi sono capitato. Cover band dei Negramaro. Ragazzi, cioè, Maratona, non capisco come possono anche avere l'idea. Però appunto, scegliere una band e fare la cover band, anche gli originali possono dire, cavolo però, cioè, che onore. No, beh, sì, diciamo che è una band che è difficile, perché il bacino di utenza, allora, i Manowar o vengono amati o vengono odiati. Quindi, di conseguenza, è più facile fare un tribute metallica, che metallico bene o male piacciono a tutti. No, penso che i tributi ce ne siano un altro paio, tra l'altro penso uno anche qui Ligure e uno su Lombardo, però fondamentalmente diciamo che siamo quelli un po' più vecchiotti, quindi del resto quelli un po' più conosciuti e continuiamo ancora su quest'onda di pari passo, speriamo, con i pezzi nostri, proprio perché abbiamo cominciato a fare pezzi inediti e speriamo bene in quello, ecco, poi pian piano magari lasceremo il testimone a qualcun altro. Ragazzi, questa è la parola dei Night Glow, quindi sono questa sera al Rock Club 261 di Genova e niente ragazzi, volevo, oggi siete qui a suonare e prossimamente dove vi possiamo venire a ascoltare dove sarete come tappa di tournée imminente. Allora, no, verso fine mese saremo in teoria il 24 di aprile al Circolo Coloni di Brescia, il 27 saremo al Vostok di Com insieme ai Labyrinth e dopodiché a maggio avremo diverse date, appunto in abbinamento con gli Angels of Babylon di Rhino, ex batterista dei Manowar, suoneremo a Riscate, a Gasoline, a Sondro in Auditorium, il 10 di maggio saremo all'Essenzia di Prato, il 17 probabilmente ricollaboreremo con il Vostok un'altra volta e poi avanti, insomma, comunque sui nostri link e sui nostri siti c'è tutto quello che serve sapere. Ragazzi, questi sono i Night Glow e questo è il motto per dire che il rock'n'roll non si deve mai fermare. Da Genova è tutto, Rock Club 261, andiamo a questo bellissimo live e un saluto al popolo del web. Ciao ragazzi! Ciao!